Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di conchiglie 100 grammi di fagiolini grossi 50 grammi di piselli Mezza mozzarella Burro Parmigiano Preparazione Cuocere in acqua bullente per circa 20 minuti fagiolini a pezzetti e piselli Verso la fine della cottura aggiungere la pasta Mettere nella zuppiera la mozzarella tritata e versare sopra la pasta ben calda con le verdure Aggiungere un pezzetto di burro e abbondante formaggio grattugiato Il piatto è pronto Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti